Milano Bella da Dio, siamo qua al Circolo Canottieri San Cristoforo con Filippo Galli e Calcio Bello da Dio. Filippo Galli, bandiere, pilastro storico del Milan. Ciao Filippo, subito per iniziare, per rompere un po' il ghiaccio, vorrei ripartire dal tuo primo periodo in cui hai iniziato la carriera, quindi a quel provino del 1979 con il Milan. L'ho vissuto serenamente, perché comunque è chiaro, voglio dire, essere selezionato dal Milan, andare a fare un provino al Milan non era da tutti, neanche allora, e quindi essere andato a Milanello, io da sempre milanista, era per me già un successo, diciamo così. Poi è indubbio che quando arrivò la comunicazione, che disse che tutto sommato il provino non era andato male, ma ero già avanti negli anni, avevo quasi 17 anni, quindi rispetto anche ai ragazzi che venivano reclutati allora, selezionati allora, ero troppo avanti negli anni. E quindi questa cosa è chiaro che mi creò poi una delusione, però continuai a giocare nel Villa Santa, in una squadra dilettantistica di prima categoria in cui io militavo, e successivamente, come dicevi tu, è arrivata una chiamata, una successiva chiamata per partecipare ad un torneo. Quindi ho partecipato a questo torneo con il Milan, dove c'erano, credo, Atalanta, Inter, se non ricordo male, abbiamo avuto la bravura, ma ovviamente anche la fortuna di vincere questo torneo, io feci anche un gol, e quindi le cose cambiarono, le cose cambiarono e finalmente arrivò questa chiamata, innanzitutto alla società, che ero stato scelto dal Milan, e quindi tutto cambiò, la prospettiva cambiò, però ecco, neanche allora io ho mai pensato, non andavo al Milan pensando di diventare un giocatore professionista, andavo al Milan per cercare di dare il meglio di me stesso, di giocare a calcio, di divertirmi, di crescere, di migliorare, e poi è andata come è andata. Però nel frattempo, se non sbaglio, continuavi a lavorare con tuo zio mentre ti allenavi? Sì, allora io, in quegli anni erano successe un po' di cose, nel senso che io frequentavo Lensenberger, che era una scuola superiore di Monza, però allora c'erano molte manifestazioni politiche, quindi si studiava poco di fatto, e quindi chiese mio padre di poter andare in una scuola che mi potesse dare una preparazione migliore, e decisi di andare a Salesiani, al serale, e quindi lavorare da papà e dagli zii, che avevano una fabbricchetta, come si dice, un po' in Brianzolo, a Villa Santa, dove io sono cresciuto, e quindi ho cominciato a fare il disegnatore tecnico lì, tanto è vero che il mio esempio da seguire era quello di mio zio Carlo, che era colui il progettista, lo chiamavano ingegneri anche se era di fatto soltanto un perito meccanico, soltanto tra virgolette. Ho cominciato così e poi arriva questa chiamata, praticamente dopo qualche mese, del Milan. Milan mi chiede di andare a frequentare le loro scuole, perché sicuramente sarei stato facciato, nei trasporti, nel raggiungere Milanello, ma decido di rimanere a Salesiani, perché quella era la strada principale, lo studio, e poi eventualmente poter entrare con papà e con gli zii nel lavoro. E quindi questo ha creato sicuramente qualche difficoltà in più, però tornando indietro rifarei quel tipo di percorso. Così come poi alla fine hai scelto all'inizio, subito dopo la chiamata del Milan, di andare a Pescara, piuttosto che a Vicenza, dopo l'inizio, insomma, nella primavera del Milan, e volevo chiederti, lì è iniziato un percorso, ecco, in cui tu hai avuto diversi allenatori sulla panchina del Milan, tutti differenti, e quindi ci tenevo a chiederti, chi ti ha lasciato umanamente, o hai sentito più vicino a te tra l'idol, Sacchi, Capello? Allora, se mi posso permettere, faccio un passo indietro, appunto, parlando proprio del fatto che sia andato a Pescara, nulla ovviamente contro il Vicenza, ma chi mi consigliò di andare a Pescara, perché stava facendo una squadra che voleva salire, ritornare subito in Serie B, fu proprio Gianni Rivera, che allora era vicepresidente della radio del Milan, e quindi ascoltai Gianni Rivera, anche perché era un'icona, e quindi andai a pescare, trovai Tom Rosati, un allenatore che per me fu un padre, mi aiutò tantissimo, soprattutto all'inizio che soffrivo di pubalgia, arrivavo dal Milan con questo problema fisico, che poi sparì tutto ad un tratto, e quindi poi ho avuto, da Tom Rosati, ho cominciato con il Milan con Castanier, Lidl, come dicevi tu, poi Sacchi, Capello, e due mesi di Tabarezzi addirittura, e chi ho avuto come maestro, io direi tutti questi mi hanno dato qualcosa, se devo scegliere, poi a un certo punto, è chiaro che dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze calcistiche in campo, scelgo Sacchi, ecco, perché con lui c'è in Italia, non solo quindi nel Milan un calcio pre-a-Rigo Sacchi, un calcio post-a-Rigo Sacchi, perché credo che abbia portato un'innovazione incredibile, dal punto di vista proprio dell'approccio, dell'idea di un calcio che potesse essere propositivo, o comunque provasse una squadra ad andare a vincere anche all'estero, e non soltanto difendersi e giocare in contropiede. Però comunque umanamente in tutto questo percorso, sia Castagnere quando sei arrivato dal Milan, che era appena ritornato in Serie A, dalla Serie B, quindi tutti questi allenatori umanamente ti hanno dato qualcosa nel tuo percorso di crescita? Sì, sì assolutamente, beh Castagnere è stato appunto il primo allenatore che ho avuto al Milan, mi ha sempre colpito la sua capacità di avere cura delle persone, e soprattutto nei confronti dei giovani, nei miei confronti, e quindi anche la capacità di gestire, perché poi la gestione non sappiamo mai, non c'è una ricetta, però ricordo che io giocai delle partite, feci bene, e lui poi mi preservò, non mi feci giocare nel derby ad esempio, perché la classica è una frase, non voleva bruciarmi, non voleva hai fatto due partite bene, il derby potrebbe essere una partita difficile da affrontare, che allora magari non capivo, però poi avendo anche fatto un ruolo di allenatore, e anche da dirigente sportivo, ho apprezzato, a posteriore ho apprezzato molto di più, non che non l'avessi apprezzato, che fossi andato in contrasto assolutamente no, ero ragazzino e quindi stavo alle scelte, e quindi grazie a Castagnere, ma grazie a tutti questi allenatori, insomma davvero non posso tralasciare nessuno, anche Tabarez, pur avendolo vissuto per pochi mesi, tre mesi, perché allora c'era, anzi di più perché c'era il mercato di novembre, allora quindi io andai la reggiana a novembre, Tabarez mi ha regalato dei libri di Galeano, per capirci, quindi era una persona veramente di valori altissimi, e di valore morale assoluto, oltre a che un tecnico che poi ha dimostrato grandi qualità. Prima parlavi della tua fase da dirigente, direttore del settore giovanile del Milan, che hai avuto dal 2009 al 2018, e ci tenevo a chiederti in questo periodo, quale pensi che sia effettivamente poi quel parametro fondamentale, per poter scegliere un calciatore, per capire se c'è del materiale, del talento, per stargli accanto? Difficile anche qui dire qualcosa di preciso, perché poi quando si dicono delle cose, si rischia di chiudere, anziché di tenere aperta una strada, però è indubbio che quando vedi un bambino, un ragazzino giocare, è quello che ti colpisce sempre il suo rapporto con la palla, la capacità di gestire la palla, poi spesso si dice capacità di saltare l'uomo, però quello non necessariamente è un aspetto che uno guarda, e poi però quello che secondo me è importante, è vedere e capire se questo bambino riesce poi a relazionarsi con gli altri, in senso calcistico proprio, voglio dire la capacità di giocare con gli altri, e essere bravo a comprendere la scelta, perché la scelta è fondamentale nel gioco del calcio, penso in tutti gli sport, ma nel nostro gioco, che è uno sport situazionale, è fondamentale, quindi quando capisci che questo bambino riesce a comprendere, quando deve tenerla, quando deve giocare la palla, quando deve andare con uno o due, piuttosto che, come dicevo prima, provare a andare a fare un dribbling contro un avversario, credo che lì davvero ci sia tanto, e dopo spetta a noi adulti, alle figure adulte, a tutti coloro che in qualche modo sono responsabili, o hanno una parte nella formazione di questo ragazzino, quindi tutti gli incontri che lui fa, e non sono necessariamente tutti quelli che sono dei tecnici, sono fondamentali nello sviluppo della traiettoria della sua carriera. Ecco, in quel periodo tu hai visto crescere un giovanissimo Simone Verdi, che comunque è arrivato in Serie A, ha fatto una dignitosissima carriera, e Matteo Darmian, che è passato per le giovanili del Milan, io ci tenevo, oltre a questi due nomi che ti ho citato, a chiederti cos'è successo a uno dei talenti più promettenti del Milan in quegli anni, che è Hakim Mastur, che ha avuto comunque... Sì, Hakim Mastur, scusami se ti ho interrotto, perché so che è un tema che viene spesso riproposto, Hakim Mastur, è un 98, classe 98, quindi viene molto dopo rispetto a Matteo Darmian, che credo che fosse un 79, piuttosto che Verdi, che è un 92. Beh, Hakim Mastur sicuramente sono stati commessi degli errori, io ovviamente ero responsabile, quindi mi sento responsabile, perché non si è dato tempo a questo ragazzo di superare le difficoltà, le abbiamo spianate di fronte, e quindi questo non ha fatto sì che lui superasse le classiche frustrazioni che possono avere, che si hanno nella fase adolescenziale, ma non solo nella crescita di un giovane calciatore, e quindi ha sempre pensato che tutto fosse facile, e questo non ha aiutato dal mio punto di vista ad andare a prendere tutto il meglio che aveva di sé, tutte le sue qualità, tutte le sue competenze e abilità, strada spianata, e a un certo punto non c'è stata più una crescita, non c'è stato più un miglioramento, quella capacità di scelta di cui parlavamo prima è venuta meno, e quindi si è trovato con delle difficoltà, certamente anche chi gli stava attorno non lo ha aiutato, e quindi è sempre colpa alla fine degli adulti, noi diciamo che delle nuove generazioni, però sono gli adulti che spesso combinano i danni, che gli fanno i danni. Diciamo che comunque anche dei fattori esterni, come ad esempio la pressione mediatica, gli interessi. Quando parlavo di incontro intendevo anche questo, le persone che stavano attorno, che gli hanno dato delle opportunità enormi, però forse non gestendole nella maniera giusta, e quindi questo, ricordo, uscivano già i social, erano già presenti, e quindi c'era lui con Neymar, il palleggio, il trick and skills e quant'altro, però quello non è, essere giocatore non è quello, non è calcio, è un'altra cosa, insomma, tricks and skills, appunto, però poi qui si aprono discorsi metodologici, e di pensiero, che andrebbero approfonditi. Prima, tra l'altro, dicevi che secondo te non è necessario, per forza, saper saltare l'uomo, è meglio saper dialogare col compagno, magari negli ultimi anni, però si vedono meno giocatori, che tendono ad avere questa capacità, di saper puntare l'uomo e saltarlo, piuttosto che è un gioco più di squadra, più improntato nel dialogo. Come sempre, un po' la verità sta nel mezzo, nel senso che, allora, è vero, ci sono sempre meno giocatori bravi, a saltare l'uomo nel dribbling, e io credo che arrivi anche dal fatto che, non si alleni nella maniera giusta, nel settore giovanile non si alleni, non si alleni nella maniera giusta, il dribbling uno contro uno, viene, a volte si allena il dribbling, e si giocano, anziché, mettere il giocatore nelle condizioni, di ciò che avverrà nella partita, di ciò che è il dribbling nella partita, lo si allena a fare delle lotte, per cui c'è questo uno contro uno, con due porticini, si butta la palla, si accorce in avanti, colui che ha giocato la palla, è perché deve affrontare quello che andrà nell'uno contro uno, e vanno avanti per secondi e secondi, quando invece il dribbling in una partita si risolve, non dico in un attimo, ma in pochissimi secondi, invece lì, fino a che uno non stramazza al suolo, non si smette di fare questa esercitazione, che non è assolutamente propedeutica all'uno contro uno, c'è questo, c'è il fatto che i difendenti, i difensori, in generale i giocatori sono atleticamente più forti, quindi oggi quando uno ti supera nel dribbling, hai una velocità, hai una capacità di recuperare, per cui diventa davvero difficile, e allora ecco perché dal mio punto di vista, è innanzitutto importante equilibrare questo aspetto del giocatore, che va da solo, a cui non bisogna tarpare le ali se ha un'individualità accentuata, e quindi vuole andare nel dribbling, ma allo stesso tempo dobbiamo fargli capire la possibilità di relazionarsi col compagno, di avere il compagno come aiuto, come risorsa, per poter risolvere le situazioni di gioco, e poi come dicevamo prima, la scelta è fondamentale, se andare nell'uno contro uno, andare con l'aiuto del compagno, e quindi qui è necessario conoscere il gioco, ma per far conoscere il gioco ai nostri giocatori, dobbiamo avere delle persone, delle figure adulte, allenatori, preparate, formate per fare questo, e non è facile, perché poi le competenze, io dico sempre, non sono per sempre, non sono cristallizzate, ma bisogna cercare di continuare a studiare, a leggere, a capire, a sperimentare, eccetera. Una figura che ha sempre continuato a migliorare le proprie competenze, in generale, ma nel Milan, nella sua storia, è sicuramente Paolo Maldini, tu hai avuto il piacere di averlo come giocatore, e di averlo visto anche come dirigente, ecco, se vuoi darci uno spaccato, di quello che pensi tu magari, su quello che servirebbe al Milan in questo momento, su quello che ha lasciato Maldini, e come poi è cambiata la situazione, questo senso di appartenenza? Beh, credo che, insomma, Maldini, la famiglia, la storia di Paolo Maldini, del papà prima, ora anche di Daniel, sia una storia legata al Milan, un giocatore che è arrivato alla prima squadra, giovanissimo, però senza nessun aiuto, senza nessun favoritismo, ha meritato tutto sul campo, attraverso gli allenamenti, e poi attraverso le partite, le prestazioni, quindi è stato certamente un esempio, per tutti coloro che hanno potuto allenarsi con lui, dopodiché, lui è riuscito a entrare nel management del Milan, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e dopodiché la proprietà ha fatto una scelta, qui non sappiamo, nessuno di noi sa esattamente che cosa sia successo, però credo che, insomma, credo, Maldini, il nome di Maldini rimarrà sempre legato al Milan, e chissà cosa accadrà nel futuro, probabilmente si tornerà a legarsi con quello del Milan. Ci tenevo a fare magari delle considerazioni insieme a te, sull'attuale situazione del Milan, adesso si chiude il ciclo di Stefano Pioli, vanno via comunque delle figure come Giroud, che negli ultimi tre anni, è stata sicuramente una figura molto importante, per la rinascita di questo Milan, ma in generale, come vedi questo possibile approdo di cui si parla a giorni di Fonseca? Ma io l'ho detto un po', ho scritto un po' nel blog che ho, e l'ho detto nelle varie, in qualche altra intervista, io credo che si debba dare tempo alle persone, ai professionisti, professionisti, e quindi se verrà scelto Fonseca, dovremmo dare tempo per lavorare, ovviamente gli si dovrà dare una squadra di valore, hai detto tu, se ne va Giroud, e Shakir dietro, che comunque era un giocatore di esperienza, di carisma, che certamente ha dato una mano, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista comportamentale, relazionale, all'interno di uno spogliatorio, quindi Fonseca se arriverà, dovrà avere una squadra, all'altezza, dovrà avere anche secondo me un contesto, un ambiente che lo favorisca, che lo aiuti, quindi invece sembra che noi milanisti siamo diventati dei mangiallenatori come tifosi, perché prima ancora di avere e di sperimentare un allenatore, lo bocciamo, non credo che sia giusto, poi il tifoso chiaramente può avere le sue idee, è libero di avere le sue idee, di esprimerla, l'importante è che lo faccia con, come posso dire, con onestà intellettuale, intellettuale e con educazione, a volte ho letto delle cose su Fonseca, ma così come su Lopeteghi, veramente brutte, è chiaro che oggi abbiamo i social, quindi ognuno può esprimersi come vuole, c'è questa libertà di espressione che ben venga, che però a volte va oltre, travalica, cose dette un po' per partito preso, senza dare la possibilità di… ma perché davvero è difficile sapere che cosa un allenatore poi chieda alla propria squadra, che tipo di metodologia abbia, a meno che lo si segua con continuità, ma non solo guardando le partite, che possiamo vederle tutte, ma guardare gli allenamenti, e chi ha la possibilità di vedere gli allenamenti con continuità di un allenatore? Poche persone, però sembriamo tutti degli esperti, va bene così, non è che dobbiamo tornare indietro, e non possiamo tornare indietro, però forse ci vorrebbe un attimino più di equilibrio, dopodiché rimango milanista per sempre. Parlando di allenatori italiani, del rapporto che tu hai con Roberto De Zerbi, e anche con la tua visione di gioco, che comunque predilige un calcio propositivo, piuttosto che attendista, nei prossimi anni uno come De Zerbi può raggiungere una panchina, sarebbe assolutamente all'altezza? Io me lo auguro, la mia idea di calcio propositivo ha dei fondamenti pedagogici e di pensiero, perché credo che dal punto di vista della formazione, partendo con un certo tipo di calcio, appunto propositivo, proattivo, possa aiutare davvero i giocatori nel loro percorso, quindi a riuscire a rispondere a quello che potrebbe essere richiesto di un allenatore. Fare il percorso inverso, cioè crescere un giocatore che ha sempre pensato di giocare in maniera, non dico difensivista, però certamente speculativa, poi chiedergli il passaggio di un calcio differente, secondo me diventa molto più difficile. Il percorso inverso invece, lo abbiamo visto, io ne ho parlato con ragazzi che hanno fatto il percorso nel Milan, quando gli viene richiesto un gioco più diretto, o un gioco comunque più speculativo, ci sono molte meno difficoltà. E quindi per me De Zerbi è un esempio, parlando di Milan, io sono stato tre giorni lì, quattro giorni, proprio quando poi è venuta fuori la notizia che aveva risolto il contratto con il Brighton, io lo conosco da tempo, però in quei giorni è venuta fuori proprio quando lui parlava nell'ufficio, il suo essere milanista, il suo milanismo, il suo attaccamento ai colori, attaccamento ai colori rossoneri, mi sarebbe piaciuto che... Non mai dire mai, ma sarebbe più difficile. No, però mi sembra che le scelte ormai siano state fatte, e quindi sosteneremo... Ma anche in futuro, non è necessariamente adesso. Sì, sì, perché da quando chi arriverà avrà vinto, avrà fatto la sua strada, speriamo un giorno si incontri, le strade di Roberto De Zerbi del Milan si possono incontrare, perché lui davvero ha dentro questa cosa qui, questo milanismo. Molti suoi giocatori che ha allenato parlano di una vera e propria ossessione di De Zerbi per i dettagli, la cura dei dettagli, e questo qua sicuramente è una somiglianza con un grandissimo Rego Sacchi, com'è? Assolutamente sì, sì, sono molto simile. Io appunto ho visto la Lamedo, ho visto anche Sassuolo, ho fatto venire quando ero al Milan a fare formazione per i nostri allenatori, in aula, e lui è, tradossalmente, non dico che sia un difensivista, perché poi magari se mi sentessi arrabbia anche, però è molto attento anche ai dettagli difensivi, anche se uno non lo direbbe. Poi è chiaro che la sua richiesta, rispetto a un'idea di questo gioco, che deve uscire dal basso, ma poi lui tra l'altro quando esce dal basso, ma il giocatore dice quando c'è la pressione, quando non c'è la superiorità, e quando non vediamo l'impossibilità di uscire, bisogna andare a giocare là, direttamente, dove probabilmente c'è più spazio, dove probabilmente c'è, se non una superiorità, una parità numerica. Quindi lui assolutamente ha la necessità di trasferire tutto il suo sapere, tutta la sua idea di gioco ai giocatori, proprio come dicevi tu, nei dettagli, ed è incredibile come corregga, come lavori sugli spazi, sui tempi, in maniera magnacale. Volevo tornare un attimo sulla fase, insomma, 13 anni molto importanti che è stata tutta la tua carriera al Milan, hai avuto un'evoluzione, sei arrivato giovanissimo, hai vinto tanto, 5 scudetti, 3 Champions League. Volevo chiederti quale fosse il ricordo, partita proprio, che ti capita più spesso di rievocare, quando magari sei tra te e te. Sì, allora, è chiaro che la gente, visto che tra l'altro è stato dopo quel trentesimo anniversario della vittoria contro il Barcellona di Guardiola, di Cruyff, Guardiola giocava, è chiaro che quella partita lì mi ha un po' consacrato, era una partita che non poteva sbagliare, perché probabilmente, come spesso dico, forse avrebbe cancellato le altre 324 presenze nel Milan, perché in quella partita non c'erano Billi, non c'era Franco e quindi la responsabilità era altissima, si cercava una Champions, una Coppa dei Campioni, insomma, non ricordo se fosse già cambiata, forse non ancora. Vabbè, al di là di questo, quella è la partita che tutti mi ricordano. A me piace ricordare altri due momenti che sono quella della vittoria della Coppa dei Campioni a Barcellona contro Steaua, perché io da milanista da sei anni, da un Milan Celtic 0 a 0 ho giocato a San Siro sotto la neve, con la neve, quella partita lì è stata vedere una folla, un oceano rosso-nero fuori dallo stadio che quasi portava l'autobus, lo spingeva verso il Camp Nou e poi, insomma, uno stadio rosso-nero perché per i noti fatti regati alla guerra civile che c'era a Ceausescu all'interno della Romania non aveva permesso ai tifosi romeni di arrivare in Spagna e l'altro momento chiaramente è quello che ho vissuto a Como quando abbiamo pareggiato con il Como appunto nell'ultima partita di campionato e abbiamo vinto il campionato e poi siamo andati a San Siro in un San Siro pieno di rossoni e di quelle sono le partite che sicuramente ho più a cuore me ne dimentico senz'altro qualcuna però fissiamole, fissiamole, fissiamo queste. Tu comunque sei di Villa Santa poi alla fine ti sei trasferito subito qua a Milano No, il mio percorso io nasco a Monza cresco a Villa Santa perché i miei abitavano lì avevano un'attività lì quindi sono cresciuto lì e poi a 40 anni mi sono spostato invece sono tornato a Monza e ora da 40 anni da più di 20 anni sono tornato a vivere a Monza dove appunto ero nato. ma magari c'è qualche aneddoto sulla tua vita milanese su quel periodo al Milano qualcosa di... e non ero vivevo poco Milano ero ogni tanto ma perché poi le amicizie le avevo appunto a Villa Santa piuttosto che ma neanche a Monza come dicevi tu avevo a Villa Santa ogni tanto uscivo con i compagni ma non ero ero più gogliardico all'interno dello spogliatoio che non al di fuori quindi movi da quelle cose ma non perché volessi fare il morigerato perché proprio mi divertivo in altro modo ecco portavi serenità all'interno dello spogliatoio con... sì insomma facevo un po' di... mi piaceva essere fare scherze eravamo il nostro tavolo così chiamato degli ignoranti dove c'eravamo io Stefano Nava Marco Simone a volte Demetrio Bertini forse magari qualcuno si arrabbia se li inseriscono in quel tavolo però negli anni sono sempre arrivati nuovi ragazzi perché poi a volte il Milan cambiava però poi io ricordo quando il nostro tavolo alzava un po' troppo i toni bastava uno sguardo di Franco Baresi che si girava senza neanche parlare e noi tornavamo al silenzio insomma tutti tutti gli attaccanti i giocatori che hai marcato nel momento in cui lo facevi poi hai realmente capito magari a posteriori quanto fossero forti certe figure che hai affrontato Maradona Platini l'ho capito quando dovevo entrare in campo e quando lo vivevo ho vissuto quei momenti è chiaro che poi dopo quei momenti e il fatto che Lidon comunque mi dicesse di marcare a tutto campo a Uomo questi giocatori mi si è servito anche per arrivare alla cronaca perché sai quando marchi Maradona quando marchi Platini quando marchi Zico è chiaro che anche tu entri nei racconti e questo alla fine mi ha dato una mano a farmi a farmi conoscere e le responsabilità era tanta però insomma bello è stata davvero un'esperienza un percorso di crescita calcistica professionale straordinario poi a me piace sempre ricordare anche il post calcio giocato il percorso nel settore giovanile gli incontri fatti con persone che per me sono state fondamentali Cosa ti trasmette supportare i ragazzi cosa pensi sia per loro ecco fondamentale a livello di vicinanza per proprio per aiutarli a fare quell'ultimo gradino quelli che sono molti che ci arrivano però poi manca quello step a me piace avere il rapporto io ho sempre creduto nei giovani mi piace pensare che i giovani abbiano in sé tante qualità e come dicevo all'inizio a volte siamo noi adulti che non permettiamo loro di esprimersi fino in fondo anche qui quando si parla di talento alla fine dobbiamo essere in grado di educare il talento di ex duce di tirarlo fuori fare in modo che questo talento dei ragazzi qualunque esso sia venga fuori quindi questa cosa mi ha sempre portato innanzitutto a cercare di avere una relazione con i ragazzi perché avere una relazione una relazione vera credo che possa aiutare nell'apprendimento anche ai ragazzi quindi un apprendimento che può essere sul campo quindi quello completamente calcistico piuttosto che in altri contesti ecco credo che osservare relazionarsi ascoltare sia fondamentale quindi non avere questo rapporto gerarchico io sono l'allenatore io sono il dirigente e tu sei il giocatore sei il ragazzo che devi solo ascoltare ed eseguire no tutt'altro infatti ecco perché a me non piace la parola istruttore che spesso viene usata perché non si posano allenatori con i bambini 5-6 anni perché allenatore credo che sia uno dei mestieri più difficili da fare proprio perché non possiamo pensare che sia solo un aspetto tecnico ma deve essere sì deve essere visto secondo una visione multidisciplinare quindi educativa emotiva relazionale appunto e non solo tecnico-tattica o atletica e questo quindi comporta una difficoltà di quel ruolo e non vedo perché si debba chiamare l'istruttore che poi a me so che è una mia fisima riporta l'idea che io ti devo da bambino ti devo dare le istruzioni l'adulto dà le istruzioni al bambino si fa così punto e quindi il bambino si toglie ogni tipo di pensiero ogni tipo di scelta che abbiamo detto dall'inizio è invece una delle caratteristiche che dovrebbe avere uno dei talenti che dovrebbe sviluppare il bambino o la bambina visto che oggi c'è il calcio femminile che sta crescendo dovrebbe sviluppare tutte queste cose noi comunque possiamo avere il piacere oltre che a leggerle nel tuo libro che è uscito il 16 aprile anche sul tuo blog Filippo Galli sì la complessità del calcio il titolo è questo ho esagerato anche qui come nel libro si vede che c'è tanto da raccontare comunque ed effettivamente è un aspetto molto molto bello perché non è da tutti riuscire a esprimersi e a donare al pubblico il proprio pensiero quello che effettivamente è tutta l'evoluzione di un calciatore e quello che fa dopo anche sì io ho scritto questo libro e ho aperto questo blog proprio perché che poi io non parlo del mio blog dico sempre che il blog è di tutti coloro che scrivono nel blog e quindi ovviamente non sono solo io d'altro anzi sono molti di più gli articoli fatti da terzi esatto si chiama squadra e la squadra che partecipa a rendere vivo questo blog è ovviamente da quelli che lo leggono perché chiaro se non leggessero poi non sono tantissimi anzi vi esorto sempre di più a leggerlo ma di questo sì è stato un mio bisogno ecco chiamiamolo così di mettere dentro un contenitore le esperienze il vissuto in modo che non andassero perse ecco per concludere Filippo ti faccio una domanda su quella che sarà la stagione che verrà adesso sappiamo ancora veramente poco perché non è ancora iniziato il mercato soprattutto per gli allenatori qualcuno è stato confermato sappiamo che ci sarà Tiago Motta la Juventus Conte probabilmente andrà al Napoli sembrerebbe quasi non si sa ancora non c'è la certezza però sembrerebbe Fonseca al Milan e cosa ti aspetti alla prossima stagione nuovo format della Champions League nuovi allenatori comunque con carattere che hanno dimostrato tanto il Bologna ci sono allora ci sono squadre che pur essendo arrivate seconde e guarda caso mi riferisco al Milan ovviamente i propri tifosi i tifosi del Milan vorranno che invece il Milan possa lottare per lo scudetto dall'inizio fino alla fine poi sappiamo che vince solo uno però questo sicuramente è quello che si aspettano i tifosi e quello che mi aspetto anch'io che il Milan sia lì a lottare per il titolo ci saranno delle squadre che si dovranno confermare non dimentichiamo l'Atalanta che ha fatto in questi anni un percorso straordinario bisogna andare in mente a Gasperini per quello che ha fatto anche vincendo l'Europa League il Bologna che ha proposto anche un calcio diverso un calcio innovativo il Tiago Motta che va alla Juve e la Juve anche qui è vero che ha vinto la Coppa Italia però forse viene da anni un po' deludenti dal punto di vista della proposta di gioco eccetera credo che insomma ci apprestiamo a vivere un campionato come sempre sì forse che non sarà il campionato che abbiamo appena visto finire dove l'Inter ha vinto con grande merito senza praticamente avere rivali e questa Champions è interessante perché poi alla fine riprende quel famoso campionato non del mondo campionato europeo per club che aveva nella testa Sifio Berlusconi 20 e passa anni fa grazie a Filippo Galli per questa splendida chiacchierata è stato davvero un piacere e grazie per averci dedicato il tuo tempo a Milano Bella da Dio a Calcio Bello da Dio grazie a voi grazie a voi grazie a Milano Bella da Dio grazie al Calcio Bello da Dio e davvero per il vostro tempo per le vostre energie per me è stato un onore un piacere stare qui